Sarà forse l'occasione propizia per distendere i nervi da troppo tempo tesi tra governo e regione. La data è quella del 3 marzo, martedì prossimo, quando Roma nominerà il commissario alla sanità in Calabria. L'annuncio arriva a sorpresa dal consigliere regionale Mimmo Bevacqua, che ha partecipato alle iniziative di protesta messe in campo oggi dal personale dell'annunziata. Ha annunciato che la nomina del commissario sarà l'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, per come gli è stato comunicato nel corso di una telefonata notturna dal Premier Renzi. E aggiunto, chiederò un consiglio regionale straordinario sulla sanità. Il parlamentare segretario regionale del PD, Ernesto Magorno, ha confermato quanto spiegato da Bevacqua e ha ribadito. Il governo assicurerà in tal modo ad un settore vitale che vive gravi ed impellenti criticità una guida certa ed autorevole con l'obiettivo di farlo uscire dal drammatico guado in cui si trova e che, ogni giorno di più, mette a repentaglio l'assistenza minima e la salute stessa dei cittadini calabresi. Si deve dare atto il governo di aver dato ascolta all'univoca richiesta che è giunta dalle istituzioni e dei cittadini della nostra regione in vista, ha detto ancora Magorno, di una decisione che deve essere accolta con grandissima soddisfazione perché consente di uscire da una situazione difficile e ricca di inquietudini vissuta con grave preoccupazione da tutti i cittadini calabresi.